Il Castello Pignatelli di Monteroduni, lo scenario della manifestazione conclusiva del progetto di gemellaggio sul tema della legalità tra l'Istituto Comprensivo di Montaquila e quello di Sant'Elia a Pianisi. Tante le autorità che hanno presenziato all'evento, ma vediamo. Ecomafia, questo è il titolo del progetto che l'Istituto Comprensivo di Montaquila ha condiviso con l'Istituto di Sant'Elia a Pianisi in provincia di Campobasso. Un gemellaggio scaturito dall'impegno che i due istituti hanno convogliato all'analisi delle problematiche che minano la legalità. E sabato scorso nel centro storico di Monteroduni la straordinaria manifestazione conclusiva che ha celebrato la chiusura del progetto. E' rivolto agli eroi pacifici il messaggio lanciato quest'anno dagli alunni che grazie alla guida e al notevole sostegno dei docenti hanno approfondito tematiche di notevole impatto sociale con percorsi educativi volti a promuovere la cultura della legalità responsabile. E' segno tangibile di tale cultura il lavoro onesto e quotidiano che i ragazzi insieme alle associazioni del territorio, alle aziende locali e ai genitori degli alunni di Montaquila, di Sant'Elia a Pianisi e dei comuni limitrofi hanno rappresentato attraverso stand di tradizioni storico-culturali, artigianali e gastronomici. Una festa quindi non solo per la scuola ma per tutto il territorio su cui i due istituti insistono. La criminalità organizzata, il bullismo e il cyberbullismo, gli altri temi protagonisti dell'evento e verso i quali gli alunni di Montaquila hanno mostrato particolare sensibilità con letture mirate e di narrativa approfondite nel corso dell'intero anno scolastico. Il convegno pomeridiano al castello Pignatelli di Monteroduni si è freggiato degli autorevoli interventi del giornalista Sandro Ruotolo, dei magistrati Roberto Pennisi della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e del procuratore di Isernia Paolo Albano. Presenti anche i sindaci di Monteroduni, Sant'Agapito, Macchia di Isernia, Longano e Sant'Elia Pianisi. Parole di ringraziamento sono giunte dal dirigente scolastico di Montaquila, dottoressa Carmela Concilio, riconoscente per la collaborazione ricevuta da alunni, genitori, docenti e istituzioni. La presida ha espresso piena soddisfazione per il messaggio positivo di cultura, legalità e collaborazione che l'evento è riuscito a diffondere.